A Terra Cina, in provincia di Latina, per la rassegna musicale Folka, a metà ospitata dall'Open Art Café, sul palco il film armonicista e compositore Marco Lorusso con un percorso che parte dal jazz per giungere al tango e alle colonne sonore di fiction e film per il cinema. Inizio alle 21.30.